Il parco di Villa d'Aiala Valva, in provincia di Salerno, conserva l'impianto realizzato a cavallo tra il 1700 e il 1800. L'irregolare perimetro della tenuta accoglie una scacchiera di viali rettilinei e aiuole, nelle quali il continuum del bosco di lecci e castagni, punteggiato da magnoli, cedri, abeti e platani, si arricchisce di episodi preziosi come i due giardini all'italiana, le architetture neoclassiche, la ricca statuaria e le grotte. Una citazione a parte merita il teatro di Verzura, un'esedra con gradonate evidenziate da siepi di bosso, sagomate, tra le quali emergono numerosi busti marmorei.